ciao a tutti ragazzi e benvenuti qui in un nuovo video su investire consapevole il canale che vi aiuta con le notizie per quanto riguarda gli investimenti sia in italia che all'estero di che cosa parliamo oggi oggi parliamo di recovery plan con la nuova bozza se non l'avete già fatto vi invito ad andare a guardare il precedente video che ho fatto dove ho spiegato dettagliatamente cosa è previsto nella bozza del recovery plan oggi invece vorrei mettere in luce quello che riguarda i possibili effetti di questo recovery plan ossia c'è una possibile crisi di governo in vista se se sì vediamo quali sono le alternative previste attualmente più diciamo più considerate ma prima di passare all'argomento del video vi invito a lasciare un bel like mi raccomando distruggete quel bottone del like perché mi aiutate con l'algoritmo di youtube poi vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella ragazzi vorrei che mi deste anche manforte perché come vedete io faccio dei video interamente non tagliati quindi se c'è qualche errore io preferisco mettere tutto me stesso nei video darvi più informazioni possibili ed evitare di tagliare parti del video proprio perché la mia il mio obiettivo è quello di darvi informazioni ed è quello di permettervi di investire in maniera consapevole ma passa passiamo subito al all'argomento del video vediamo quello che volevo focalizzare innanzitutto è quanto riguarda la minaccia renziana come sapete matteo renzi in queste ultime settimane sta puntando molto a una possibile rivoluzione di governo quello che ancora non è chiaro e che andrà deciso appunto nelle prossime 48 ore è cosa accadrà subito dopo il via libera al recovery plan in consiglio dei ministri se nel frattempo non si tovasse la quadra la minaccia del ritiro della delegazione di italia viva dal governo si tradurrebbe in fatto reale e questo che cosa significherebbe significherebbe a tutti gli effetti crisi di governo ragazzi ma davvero renzi arriverà tanto rischiando peraltro di perdersi un pezzo dei gruppi parlamentari per strada e davvero il premier giuseppe conte rischierà fino a quel punto esponendosi a una conta in aula che comunque non lo terrebbe in vita queste sono domande che ci dobbiamo porre perché se riusciamo a dare una risposta a queste domande vuol dire che già ci stiamo focalizzando su quelli che potrebbero essere gli scenari futuri dal colle infatti è stato informalmente chiarito che in caso di sfiducia in senato conte non potrebbe avere il reincarico per la formazione di un nuovo governo da lui guidato ma anche una vittoria tra virgolette ovviamente grazie a qualche voto sparso di segnatori raccoglitici non costituirebbe lo stesso agli occhi del capo dello stato sergio mattarella la base per la formazione di un nuovo governo politicamente coerente quindi stiamo considerando i due scenari che non consentirebbero sottolineo non consentirebbero a conte di avere un nuovo mandato per la formazione di un nuovo governo l'apertura di conte sui temi di renzi perché quello che è importante in quest'ultimo periodo è proprio il fatto che renzi stia rivendicando una posizione di maggior rilievo all'interno del governo qui occorre fare un piccolo passo indietro nei giorni scorsi da parte di conte sono giunte tramite i pontieri primo tra tutti goffredo bettini consigliere politico del segretario del pd nicola zingaretti numerose aperture sui temi posti da renzi perché come sapete renzi ha fatto delle richieste messe nero su bianco al governo e quindi è arrivata un'apertura da parte di conte ma cosa va a chiedere effettivamente renzi a conte innanzitutto più spazio nel recovery plan agli investimenti rispetto agli incentivi e più spazio alle spese aggiuntive rispetto a quelle sostitutive di progetti già in bilancio quindi materialmente che cosa sta chiedendo renzi renzi sta chiedendo che vengano privilegiati gli investimenti agli incentivi e diciamo da un certo punto di vista è anche corretto come tema perché fare gli investimenti nei settori giusti consente non soltanto di fare assistenzialismo ma di far ripartire completamente il settore e di conseguenza il paese e poi renzi chiede anche spese aggiuntive a progetti già in cantiere piuttosto che a nuovi progetti perché se un progetto è già in cantiere aggiungendo delle risorse si va a migliorare se invece bisogna ricominciare con nuovi progetti significa ripartire dalla fase progettuale quindi perdere ulteriore tempo ovviamente ragazzi questo è quello che chiede renzi e qui stiamo soltanto per fare informazione non è la mia personale idea io vi porto semplicemente una notizia e come tale voi la dovete prendere nel senso considerate sia che fosse nero sia che fosse bianco la notizia la dovete considerare per quella che è che poi ciascuno di noi si faccia delle sue riflessioni è giusto però la notizia va presa per quello che è inoltre viene chiesto cessione da parte del premier della delega ai servizi segreti a una persona terza di sua fiducia si fanno i nomi del segretario generale della presidenza del consiglio dei ministri roberto chieppa o del sottosegretario mario turco viene inoltre richiesto lo stop al contestato progetto di una fondazione con capitali privati e pubblici per la cyber security è un ministero ad hoc o una vice presidenza con la delega all'attuazione del recovery plan probabilmente al pd per superare politicamente l'impasse sulla cabina di regia inizialmente immaginata dal premier con sei super manager estranei ai partiti quindi queste sono le richieste di renzi ma vediamo qual è la possibile soluzione a una eventuale crisi di governo la possibile soluzione attualmente più in voga è quella delle dimissioni congelate dal capo dello stato infatti è come ho scritto ecco qui spuntare la possibile soluzione con l'ombrello del quirinale quindi praticamente mattarella sarebbe già stato informato della questione e avrebbe detto che la soluzione che lui preferisce è proprio questa qui del congelare le dimissioni di conte a cui stanno lavorando alcuni ministri del pd vicini al premier per dissuaderlo dal tentare una conta in aula che lo metterebbe di fatto fuori gioco quindi la soluzione sarebbe sia le dimissioni di conte ma subito congelate da mattarella per permettere a conte stesso di mettere in piedi un nuovo esecutivo da lui guidato previo accordo blindato e pubblico tra i leader dei quattro partiti di maggioranza dal quirinale si ricordano almeno due precedenti il governo goria e governo berlusconi nel passaggio dal bis alter è comprensibile a questo punto che conte non si fidi di renzi ci confida una fonte governativa ma in questo caso dovrà necessariamente fidarsi del presidente della repubblica perché se a conte arrivasse la voce che questa è la strada da seguire ma non per bocca di renzi ma per bocca del presidente della repubblica è chiaro che ci sarebbe una ci sarebbe una sicurezza maggiore perché il presidente della repubblica incarna una persona di fiducia per tutta l'italia certo prima di arrivare a tale soluzione che per molti attori sulla scena è ormai l'ultima spiaggia per evitare una crisi sempre più incomprensibile agli occhi della pubblica opinione il campo deve essere sminato è ritrovato accordo deve essere siglato in un vertice tra conte e i leader politici ovviamente tutto questo deve avvenire in tempi brevi bene ragazzi queste sono le ultime notizie per quanto riguarda recovery plan è possibile crisi di governo vi ricordo di fare i vostri i vostri studi e le vostre analisi prima di investire su qualsiasi strumento finanziario perché ricordate ogni notizia ci può dare uno spunto per gli investimenti se non l'avete fatto commentate il video iscrivetevi al canale attivate la campanella distruggete il tasto del like e vi ringrazio per l'attenzione al prossimo video ciao a tutti